Adesso continuo a spiegarti che cosa significa questa gioia del Signore. Questa gioia è anche serenità e pace. Io capisco che una persona che adesso sta vivendo un momento di luto, di perdita dei suoi cari, non riesce a stare a saltare di gioia. È normale, è normale che le lacrime ti scendano dagli occhi anche quando non vogliamo. Devo dirti che ogni volta che arrivano le vostre intenzioni, dei vostri carichi che voi avete perduto in questi giorni, io devo contenere le lacrime perché il tuo dolore è anche il nostro dolore, ansia. Il tuo dolore è il dolore di Gesù. Per questo è anche il nostro dolore, noi storie carnetani, esagerati del Spirito Santo. Noi siamo con te in questo momento di prova, siamo con te in questo momento di dolore. Ma pensa un po', Gesù ha preso su di sé non soltanto i nostri peccati, ma anche tutte le nostre sofferenze. guarda il corpo di Gesù sulla cruce. È tutto ferito, insanguentato, molto più che ci possono rappresentare le cruci che vediamo, molto, molto di più insanguentato, ferito. sono le nostre ferite sul corpo di Gesù. Lui sente, sente il nostro dolore. E lui non è l'unico. Tu immagini, Maria, nei momenti della passione, tu puoi immaginare lei che vedeva il suo figlio soffrire e morire ingiustamente. e lei non poteva fare niente. E anche tu forse dici, io non posso fare niente, non posso nemmeno essere vicini a chi sta negli ultimi momenti di vita. Io ho l'immagine della pietà di Michelagelo. Maria che ha tra le sue braccia Gesù, lì, morente. E alcuni studiosi dicono che probabilmente Maria non ha potuto avere Gesù tra le braccia. Io penso che è un po' come adesso stiamo vivendo, no? Dolore su dolore. E tanti adesso nemmeno possono vivere un momento di funerale. E' duro questo. E ti trafiggi il cuore. Non siamo indifferenti a questo dolore. E nemmeno Gesù. E nemmeno Maria. Gesù e Maria conoscono il tuo dolore, il nostro dolore, il dolore dell'umanità in questo momento. E per questo ti invito a pregare. Per tutti quelli che adesso soffrono con un luto in famiglia, o dei cari, degli amici. Sono tanti. Ti invito a pregare. Preghiamo insieme adesso. O Vergine Santissima. O Vergine Maria. O Vergine del Carmine. O Vergine della Consolazione. O Vergine dell'Annunziazione. O Vergine della Gioia. O Vergine della Pace. O Vergine della Gioia Serena. O Vergine Adorata. Prega per i tuoi figli. Prega per noi peccatori. Prega per tutti quelli che adesso stanno nella grande sofferenza del mondo. Della morte dei suoi cari. Guarda, oh mamma, il cielo. I tuoi figli. Prendi tra le tue braccia. Come così? Prendi Gesù tra le tue braccia. Prendi tra le tue braccia. Prendi tra le tue braccia. Prendi tra le tue braccia. E sopra le tue braccia. O Vergine di voi. Ame. Grazie a tutti